Vediamo un'ottima organizzazione di gioco, il giro palla è perfetto, vedi non forzano mai la giocata e aspettano il momento giusto per verticalizzare e infatti la fase difensiva avversaria non riesce a prendere le giuste contromisure Ci pensa lui spazzando Perde palla Prova al volo e l'ha messa, gesto tecnico spettacolare, conclusione al volo perfetta per tecnica e coordinazione Ha spedito la palla in rete con questa conclusione che stiamo rivedendo, bellissima Una volée che non ha lasciato scampo al portiere Grazie